Il fatturato di terra merse per l'effetto incremento fatturato agroforniture, incremento fatturato cereali effetto prezzo e l'aggregazione appunto l'incorporazione di Pempacorrer è passato dai circa 155 milioni ai 243 milioni di euro e il fatturato di gruppo consolidato quindi terra merse consolida nel proprio bilancio due società controllate una è terra merse nord est l'altra è semia srl il fatturato di gruppo si attesta intorno ai 263 milioni di euro quindi come capite una struttura che è cresciuta molto si sono dovuti ovviamente robustire anche i servizi i servizi quindi centrali dal ufficio del personale agli uffici amministrativi agli uffici finanziari del credito per supportare una macchina che complessivamente è molto molto più grande rispetto al passato